Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Io sono Arianna e io sono Alessia e siamo delle ginocchia del CSB e oggi faremo un gioco bellissimo! Allora vi do 8 oggetti e con la mano dovete toccarli e indovinarli e chi le indovina di più vince! Allora, vedete gli occhi? Questo è il primo, vi faccio vedere voi. Ok, fate... aspetta, non li vedete, vero? Fate la stessa carta forbice. La stessa carta forbice! A forse dai, quindi l'inizio. L'inizio, dai. Devi indovinare questo. Ma ci metti? No, caramelle! Ah, le caramelle alla Coca-Cola! Quindi sono caramelle? Sì, indovinare! Ecco. Appunto, allora, le... Noi chiediamo l'Arianna. Chiudere, vai! Che succede di qui? Non lo so. Ma tu c'è la mia parte giusta? Ah, mi chiede mai in mano, giusto? Chiude! Ah, chiude! Ora è il turno di Arianna e questo è l'oggetto. Vai! Il tuo testo, che noterà? Un uomo? Sì! È un uomo! Dove ne va? Uno! Ok! È un uomo! È un uomo! Non, se ti è un uomo! e che è un po' di più è l'asso? si è l'argo ora stai cercando a cosa? è l'asso? nooo è l'argo sempre semplice sei a due vabbè tocca no ok hai apro ok puoi aprire ok no no più là in mezzo no no per indietro 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 guarda la faccia dai cos'è 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 non ho capito neanche io c'è la base ah si però come più o meno c'è c'è la base in qualche indietro è la cac così vinci il punto la cac donna jace l'ha già mangiato credo si l'ha già mangiato un cibo c'è un cibo è rotondo questo non c'ha come si chiama la decorazione sopra un cibo brasiliano è ti piace è un dancetto è buono è buono è nominato cioccolato ti ricordo guarda cioccolato è quello di brigadette ho due o due solo ok tocca a te Ale terzo round adesso inizio con le cose un po' più così quindi preparateli allora vediamo adesso le cose più belle è chiudete gli occhi ok ok vai Ale non guardare Ale non guardare non guardare guarda a me non guardare se abbassi gli occhi si vede cos'è? nooo nooo non guardare io giuro io giuro io giuro io giuro eh vabbè toccando magari è facile non pensi a questa cosa quanto sei? 3 oh my god allora allora chiude Ale ok pronta questo ok puoi metterla che schifo che schifo che schifo cos'è? cosa sembra? è miele? nooo no no non può guardare non posso io? si ma non puoi dire cos'è che si sembra? non ho capito non ho capito è come schifo no non posso dirlo nooo non ho capito ci vedi? no non ho capito non ho capito slime ci sei però non è proprio slime ti do un indizio? lo puoi usare? lo usi? no senti no stai dando troppi vizi ho fatto l'azione non voglio faccia no non è quello no basta i tentativi sono esauriti sono solo 3 cos'è? il basso no sì il basso 3 ultimo round e tocca a Ale chiusa gli occhi ok va ecco qua ok tutto tuo non guardare Ale tutto no non guardare guarda non guardare guarda me guarda guarda sono mio slime cos'è? secondo te cos'è? guarda formaggio shampoo no è un mix tra due cose è un grande indizio è un grande indizio balsamo shampoo no no non è cos'è? un omaggio è un omaggio non è formaggio ti dò un grande indizio? no no tu hai guardato? ragazzi ragazzi commentate team marianna o team alessio non ho guardato giuro cos'è Ale? è proprio slime cos'è a seguito? il colore è bianco giallino non guardare Ale avete visto che ha abbassato il mio occhio non va bene Ale cos'è? è formaggio o qualcosa? non è formaggio dire un'altra cosa è un impasto è per quelli devi dirmi esattamente cosa? cos'è? sono due cose insieme una è ma basta con questo formaggio è una è la aaaah tre indizi io ti ho dato tre indizi già eh vabbè l'ha detto prima l'impasto eh no ma devi dirmi cos'è perchè questo è difficile un po' sbagliato ci fai di quello no oh ti dò un'altra indizia eh ci fai il pane cioè con queste cose realizza il pane anche altre cose però questa è già la preparazione sono due cose insieme sono due cose insieme Ale cos'è? no no basta mi spiace Ale ma tempo scaduto tempo scaduto la farina la farina è acqua la farina è acqua ti è piaciuto il pane quindi allora ricapitolando tu sei a tre anche tre ma che amici tu sei due o tu eri a due no lei è a due lei è a due tre lei è a due si guardare ok chiudi gli occhi questo è l'ultimo ah non guarda ah sì mi sono fatale ma tu spaventi stavo scendendo del mare no perchè mi sono un po' siani ok vai puoi guardare indovinare ma me la butti giù dopo è facile la te la spuglia aaaaaaaaa è facile questo è facile è facile 3 a 3 ci deve essere una parte 2 per forza non ci schiace ma la parte 2 la parte 2 comunque io sono la team arianna team ari ragazzi mi spiace scrivete nel commento ari o ali io ari e niente quindi ha vinto nessuno perchè ha fatto pari bravissime la prossima volta dobbiamo fare qualcosa di più difficile è troppo facile è troppo facile le cose più schifose dobbiamo fare no 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 le cose più schifose no e niente si conclude così speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutte le notifiche dei nostri nuovi video ciao ciao adios